Il celebrante della funzione ha ricordato, è stata una santa da cui vita è stata improntata alla ricerca di Dio e alla protezione di fede, nonostante tutte le persecuzioni subite, nonostante il martire, nonostante le sofferenze. La scelta di Santa Barbara è paragonabile alla scelta dei marinai che scelgono il mare, il mare che un momento è calmo, un momento è impetuoso, una scelta di vita pericolosa, una scelta coraggiosa che dimostra tenacia, determinazione, spirito di servizio. Questi sono i valori ai cui si sono ispirati i nostri marinai e a cui noi oggi dobbiamo il nostro ringraziamento e riconoscimento. Quindi un grazie a tutti e buona festa di Santa Barbara!